Che sole è andata in terra, un po' alla vita, un po' al testo che non nasce. Abbiamo avuto anche oggi il primo concerto del coro straniero, abbiamo un concerto importante in Pieve con maestri internazionali e maestri stranieri, con il primo gruppo anche professionale italiano, Decatom. Quindi sì, tutto procede a gonfie vele, la città pullola di coristi, riportiamo il polifonico ad Arezzo anche in un anno così complicato. L'anfiteatro è il 28, sabato 28, alle 21, 21 e 15. Un concerto con cinque cori che faranno musica popolare all'aperto, abbiamo spazio per tutti e tutto nella massima sicurezza. Contento Lorenzo Donati di come sta andando? Sì, molto contento, molto contento della partecipazione, ora stanno anche arrivando persone da varie parti d'Italia, come era di consueto, a sentire i concerti. Come era di consueto per il concorso, ora vengono a sentire i concerti. Speriamo al prossimo anno di tornare a fare il concorso e festeggiare i 70 anni del polifonico.